Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il progetto del Parco dello Splendore, con il progetto dei picchi, piani integrati della cultura di Regione Lombardia. Oggi abbiamo ospite con noi Vittorio Vaccari, che è il Presidente dell'Associazione Il Bel San Michele. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Oggi, come giustamente leggete anche dal titolo, parleremo proprio degli interventi, dei restauri che si stanno svolgendo sulla Basilica di San Michele. Allora vado subito dal Presidente per chiedergli un po' come si è sviluppato questo progetto, soprattutto visto che l'Associazione Il Bel San Michele è il capofila di questo progetto, del Parco dello Splendore. Come è nata questa idea? Prima di tutto ha un aspetto importante perché è un progetto integrato della cultura, che come vuol dire, dice la parola, è il fatto di far sì che la cultura diventi un elemento di sviluppo del territorio. Partito da un po' di anni, cioè da due anni fa abbiamo cominciato a lavorare su questo, abbiamo trovato una grande spinta da parte della Regione Lombardia, convinta proprio di questo tipo di obiettivo, e dall'altra parte abbiamo constatato una risposta importante di alcuni enti pubblici, il Comune di Pavia, il Comune di Belgioioso, il Comune di Certosa e anche il Consorzio Villoresi. Oltre a questi c'è tutto un insieme molto importante di associazioni, enti, che si basano sostanzialmente sul volontariato, che vogliono contribuire. Quindi l'azione è certamente un'azione promossa dalla Regione Lombardia, con delle risposte importanti per gli enti locali, ma dall'altra parte anche la risposta significativa ed è sempre importantissima del volontariato sul territorio. Quindi è una premessa perché su questo tipo di percorso ci possa essere una prospettiva che è collegata proprio a una risposta ampia del territorio. Il Bel San Michele, anche per condivisione da parte degli interessati, è diventato capofila e le iniziative che vengono intraprese da tutti i partner sono poco di poco inferiore a un milione di euro. Quindi vuol dire che sul territorio, con un contributo diffuso, con un impegno diffuso, dovremmo arrivare a circa la metà di questo anno a realizzare questi progetti per una risposta al territorio, ma anche un richiamo da parte degli altri all'esterno che possono essere interessati a far sì che la bellezza e la storia e l'arte diventi un momento di conoscenza primariamente, di identità culturale, ma anche un momento di sviluppo per il territorio. Ed è su questo che ci si sta impegnando e lavorando. Del resto, lo si dice spesso, quando si tratta di cercare di sviluppare questa conoscenza delle culture, delle bellezze del territorio, bisogna anche investire gioco forza. In questo caso, sul San Michele sono in corso diversi progetti. Sì, ma su San Michele eravamo partiti anche con un contributo precedente a sistemare gli aspetti lapidi, cioè il muro esterno sud, perché aveva delle parti che crollavano. È stato un intervento significativo, perché è 210 mila euro. Questo invece, quello relativo al PICA, è un intervento importante, perché il costo che l'associazione governa è di 370 mila euro. La regione Lombardia dà un contributo importante, decisivo, che è di 170, però gli altri 200 che mancano, fino adesso non abbiamo coperto tutto, ci mancano circa 35 mila euro. Tutti gli altri vengono da contributi di fondazioni, per la verità, anche di Pavia, ma anche di Milano e di Monza, che ci hanno permesso di far questo. È un aspetto impegnativo, perché noi, come il bel San Michele, siamo una onlus e quindi dobbiamo riuscire a governare, proprio con un rapporto di volontariato e senza avere grandi disponibilità nostre, tutta una serie di reti e di relazioni che ci possa permettere di far questo. Stavamo guardando, dottor Vacari, queste bellissime immagini fatte col drone di San Michele, che è una chiesa storica, una chiesa che significa tanto per Pavia. Prima di addentrarci proprio sui progetti, sui restauri che abbiamo visto all'interno con dei video molto particolari, che significato ha proprio questa chiesa per la città di Pavia? Questa chiesa che è nota, direi, in tutto il mondo, poi penso che si possa vedere qualcosa riguardo anche alla facciata, ma di cui parleremo dopo, è una chiesa che è citata da tutte le parti, direi, in tutto il mondo per una caratteristica specifica dell'arte romanico lombarda. È per tutta una serie di cose di cui la facciata è finora la parte più nota e per la verità, purtroppo, in questo momento la parte più danneggiata, perché l'assalto di agenti atmosferici l'hanno ridotto in questo momento male. Ma l'aspetto significativo è che voi vedete, scorrendo questa fotografia, si vede una chiesa romanica che ha un manto che non è di mattoni. Tutte le altre chiese di Pavia di quell'epoca sono di mattoni e quindi c'è la chiesa di Santo Doro, Santa Maria in Beth, San Lazzaro, San Lafranco e via dicendo e questo ti dice che nel XII secolo qui c'era una chiesa, che era la chiesa fatta dai Longobardi e la città di Pavia che viveva in un periodo di forte rinnovamento riguardo ai comuni che si stavano instaurando e quindi un distacco dall'impero e via dicendo, la città di Pavia ha deciso di demolire la chiesa che c'era e di costruire una chiesa di questo genere. Per dare un ordine di grandezza odierno si può poter valutare che una chiesa di questo genere in euro attuali non costi meno di 10 milioni di euro. Allora voi capite che la chiesa di San Michele che non è una cattedrale, che non è sede del Vescovo, che però viene dal Vescovo di Pavia di allora accettata come costruzione e per la quale la città di Pavia e i circonvicini, perché non lo sappiamo ancora, non siamo riusciti ancora a definire questa rete, si mette a spendere un valore che allora avrò avuto all'equivalenza dei numeri che ho detto adesso, vuol dire che aveva un suo significato. Quindi la chiesa che si vede dall'altro è bellissima come rappresentazione della facciata e dei bassorilievi, ma è un monumento che è da scoprire ed è su questo percorso che stiamo facendo col PIC della Lombardia che l'obiettivo è ricoperare le bellezze interne della chiesa, cercare di capire anche come era fatta questa chiesa. Quindi è una cosa affascinante e spero che andando avanti nei lavori, oltre al PIC ci siano delle scoperte da sottoporre anche alla comunità, perché io sono convinto che vorrei ricordare un accordo di un fatto dall'Europa che è la Convenzione di Faro, che è stata approvata dal Parlamento nostro lo scorso anno, che dice che realtà di questo genere sono realtà che rappresentano un'eredità culturale della comunità da lasciare alle generazioni future. E questo è proprio tipico di San Michele. Poi San Michele era il luogo dell'incoronazione dei Longobardi e poi come vedremo questa chiesa fisica ha avuto l'incoronazione di Enrico II e di Federico Barbarossa ed è proprio un'eredità che è fondamentale che la comunità ne prenda atto e la conosca ai Lami e dall'altro lato si impegna a lasciarla alle generazioni future come testimonianza di un percorso di storia. Testimonianza della storia che ha toccato Pavia e non solo. Andiamoci, Dottor Vacari, proprio in questi restauri. Su cosa si sta intervenendo? Che cosa adesso possiamo cominciare forse a vedere alcune immagini che sono state girate all'interno? Bene, bene. Il primo lavoro che abbiamo fatto e che adesso è già visibile, la cosa in bella, è la volta del presbiterio, cioè la volta sopra l'altar maggiore. Questa volta ha una caratteristica importante che è l'unica volta presente in tutta la struttura della chiesa originaria. Perché nella navata centrale, poi lo vedremo più avanti, nella navata centrale noi oggi vediamo quattro volte e fino al 1496 le volte erano due. Quindi erano volte molto più alte ed erano volte con una costruzione molto impegnativa. Da quello che si può intravedere anche da queste fotografie che sono in onda ora, i cordoli che si intravedono al di là della mano dell'arbitrice, sono cordoli in arenaria che è di un'altezza, di uno spessore circa 40-50 cm. Quindi sono fortemente impegnativi. E' importante poter capire come erano costruite. Questa volta ci permetterà di capire come nel XII secolo hanno costruito le volte di tutta la chiesa. Il 1496 è una data nella quale per motivi statici però non siamo ancora riusciti a capire se è perché è accaduto qualcosa dalle volte della navata centrale o perché qualcuno ha avuto paura di una instabilità di queste stesse volte. Il risultato è stato che hanno demolito le volte della navata centrale. E queste volte da due originarie sono diventate quattro per un aspetto che poi discuteremo. Ma questo elemento è un elemento importante. Ma perché avevano paura della volta? Ed è una cosa che ancora dobbiamo anche riscoprire in loco. Ne sappiamo un po' le dinamiche. Però bisognerebbe riscoprire in loco. Cioè a quei tempi non esisteva il sottotetto ma la trama del tetto era direttamente appoggiata alle volte. Per cui le volte dovevano sopportare il proprio peso e dovevano sopportare il peso delle volte. Per cui mentre con l'intervento del 1496 in cui si sconnette il tetto dalla volta nasce il sottotetto. Per cui la volta deve sopportare solo il proprio peso e la trama del tetto, l'interventura del tetto scarica il proprio peso sulle pareti laterali della navata centrale. Andando più avanti forse riusciamo a vedere anche, lo citava prima, l'incororrazione di Barbarossa che è un momento storico per la città di Pavia ma è un momento storico in generale. Sì, diciamo che qui, un'ultima cosa, poi passo alla sua domanda. Partiamo di questo, ritorniamo. Questo è la, se guardate bene, questi cordoli sono in mattone sagomato. Quindi vuol dire che hanno costruito queste volte, lo si vede, intervede molto bene traguardando la figura, sono tutti cordoli molto più sottili, raggiungono 25-30 cm di spessore e come voi vedete hanno tutte le sagome. Quindi quella cordonatura è tutto un insieme di mattoni avvicinati l'uno all'altro che fanno il cordolo. No, queste sono volte molto più basse e molto più leggere e questa volta che si intravede viene definita la volta dell'incoronazione anche qui perché si intravedeva in un triangolo dipinto l'incoronazione di un re o imperatore che essendo rappresentato con dei capelli rossi, ecco lo si vede adesso, lo si attribuiva a, si diceva, l'incoronazione dell'imperatore oppure l'incoronazione di Barbarossa. La cosa estremamente interessante è che guardando questo recupero avvio, perché non è ancora finito, questo dovrebbe finire anche lui a giugno, questo è ancora veramente facile. Cosa si scopre? Si scopre che attorno al 1860-70, quando c'è stata sostanzialmente la riapertura, era già aperto, ma insomma l'intervento significativo su San Michele da parte dell'ingegnere dell'acqua, probabilmente per un aspetto culturale, in cui era il periodo nel quale anche in letteratura italiana si parlava del Medioevo come di un secolo buio e tetro e che non aveva intensificato, probabilmente sono state tinteggiate di un grigio opaco, opprimente, tutte le volte. Infatti noi adesso, nell'avvio di questa volta, stiamo scoprendo che oltre il triangolo che evidenziava fino a qualche mese fa l'incoronazione, adesso abbiamo che tutte le quattro si chiamano le unghie delle quattro volte, sono tutte dipinte in affreschi, sono tutte affrescate. Quindi c'è un apparato pittorico che si presenta con una cromia molto interessante. Cioè mentre, e anche qua, stiamo discutendo e vedendo di che tipo, di che periodo siano, però tanto gli affreschi della volta per il Mediterraneo a cui abbiamo fatto riferimento prima, quanto questi dovrebbero essere a cavallo del 400 e del 500, che è il periodo in cui sono state rifatte le volte. Quindi ci stiamo, è una cosa estremamente interessante che quando fra due mesi saranno viste via queste palcature e si potrà vedere fino in fondo, purtroppo l'illuminazione sarà un oggetto di un intervento prossimo, ma non è attualmente presente. Quando vedremo questo riscopriremo una chiesa totalmente diversa, di un notevole fascino, anche perché ci dimostra la stratigrafia nel tempo che la comunità pavese ha impegnato con una serie di interventi. Però è molto bello quello che stai raccontando, dottor Vercari, perché effettivamente si scoprono misteri e cose che ci aiutano a capire come era la chiesa in origine e questo forse è proprio il funcolo della questione. E infatti il desiderio che stiamo facendo in questo senso è proprio quello di riuscire a scoprire che cosa ci nasconde la chiesa da un lato, il monumento, ma di capire dall'altro come è stato costruito, perché è estremamente bello riuscire a capire come i nostri padri nel XII secolo costruirono le volte. E quindi gli studi e le ricerche che vogliamo connettere a questo è un elemento conoscitivo importante, perché poi sono eventi, facendo riferimento anche al rifacimento della chiesa, sono eventi che vanno a interessare tutta la comunità, che vanno a interessare gli aspetti culturali. Tenete conto per esempio che cinque anni fa, se non ricordo male, l'ambasciata di Italiana Mosca ha pubblicato un studio di ricerca nella quale ha messo in relazione il romanico del romanico muscovita, russo in particolare, con il romanico italiano e il riferimento è la basilica di San Michele. E questo ci fa conoscere e ci porta anche a delle altre considerazioni che sono tutte da scoprire. Il capire come è stato costruito, il capire le influenze anche riguardo alla facciata ci permette di mettere a fuoco un aspetto che per Pavia è un po' trascurato e forse poco noto, ma sono le costanti relazioni che nei secoli scorsi, fino a circa al 1400, Pavia ha sviluppato enormemente con tutto l'est europeo, con tutta la zona di Costantinopoli, adesso Istanbul, però il fatto che Pavia era un luogo di riferimento è un transito, è un incrocio culturale. Ecco, questo è un aspetto importante che a mio avviso i pavesi, i pavesi non intendo solo di Pavia, ma insomma la comunità della zona di Pavia, della provincia di Pavia, che può anche essere Vigevano a mortare l'altro di quest'area, mortare non lo sto dicendo come placebo perché sono in uno studio di Vigevano, vorrei soltanto ricordare che quando stiamo parlando della costruzione di San Michele c'è il dibattito tra l'imperatore e il escovo, dove i delegati dell'imperatore sono l'omello, quindi non stiamo dicendo in termini da placebo, nel senso che è tutto il territorio che ne è coinvolto su questa questione, quindi diventa estremamente importante capire che una nostra vocazione era nel passato stata una forte vocazione di relazione all'esterno, di cui però ritengo che ne abbiamo bisogno non solo in termini culturali. Abbiamo ancora qualche minuto dottor Vaccarei, io andrei manderei ancora qualche immagine forse della cripta, dovremmo avere ancora qualche immagine dei ristauri. Sì, ma c'è anche della facciata, se qualcuno l'avete già vista. Esatto, la facciata forse l'abbiamo vista prima, abbiamo qualcosa credo della cripta. Allora mi lasci dire una cosa sulla facciata. Certo, prego. Con alcuni colleghi e amici del Politecnico di Milano abbiamo cercato di guardare le influenze e da dove vengono queste esperienze di basso rilievi che hanno una caratteristica estremamente interessante, purtroppo anche se adesso non è più visibile. Lasciatemi dire, una delle cose che stiamo studiando e che presenta problemi di carattere tecnologico barra economico, è che vorremmo proiettare su quei basso rilievi, un po' ridotti male, i basso rilievi prelevati, disegnati da De D'Arterre nel 1870 e l'aveva già fatto di esperimento su uno, è una cosa eccezionale. Il pensare di vedere com'era la chiesa riportando sulle stringhe dei basso rilievi come erano prima potrebbe diventare una cosa estremamente affascinante ed interessante. Comunque il problema che ci siamo posti è uno l'aspetto artistico, da dove ci sono altri esempi di questo genere, di cui questi basso rilievi sulla facciata, ci sono, da dove possono essere nati? Abbiamo messo il confronto, esperienze dalla Mesopotamia all'Armenia, alla Georgia fino alla Russia, il problema è che troviamo espressioni artisticamente coinvolgenti, cioè che sono relazionate, però non troviamo da nessuna parte che un monumento ecclesiale di questo genere che abbia una facciata in cui si rappresenta solo l'attività dell'uomo. Se guardate la facciata di San Michele avete la storia dell'uomo da andare a pescare, a litigare, a far da mangiare, a fare cose di questo genere e l'unica presentazione sacra è sulla parte finale della volta dell'arco d'ingresso, la porta principale dove c'è la rappresentazione di Cristo e sopra abbiamo San Michele, di altro non c'è, cioè è estremamente interessante constatare che le influenze artistiche sono varie, però il contenuto è un contenuto tipico, possiamo dire con molta sicurezza da questo punto di vista che la rappresentazione della facciata è un unicum a livello mondiale e dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo difenderlo, ecco questo, per quanto riguarda la cripta. Abbiamo ancora forse un paio di minuti, una battuta sulla cripta e poi un invito ai pavesi e non. Sì, ecco la cripta, la cripta è una cripta che è tutta da scoprire e questo è un impegno futuro perché più volte abbiamo guardato la cripta e stiamo facendo dei rilievi di dettaglio e tenete conto che le colonne che ci sono sono tutte diverse, quindi si tratta di scoprire da dove sono state recuperate e la loro storia, già questo. La cripta è molto bella, però deve essere l'impegno a intervenire, è un impegno di carattere significativo e a livello di questo, lasciatemi dire guardando la cripta, tenete conto che a San Michele, scusate che a Pavia, un'altra espressione che purtroppo non abbiamo più perché nel 1805 è stata demolita, è la chiesa di San Giovanni in Borgo che guardando il collegio Borromeo era sulla destra ed era un duplicato perché aveva la stessa cripta, aveva la facciata simile uguale e cui resti per fortuna, ma pochi, sono rappresentati nel museo civico. Quindi il discorso di Pavia città ma anche di Pavia del territorio è un aspetto importantissimo riguardando avanti anche in questo contesto dei PICA, dei plani integrali della cultura, di tener conto della rappresentazione, delle testimonianze che noi abbiamo sul romanico. Abbiamo fatto come associazione un librettino, in questo caso su Pavia ma sarebbe bello poterlo estendere, di espressioni civili e religiose romaniche, ce ne sono più di 30. Quindi vuol dire che siamo in grado di offrire e potremmo essere in grado di parlarne anche per tutto il territorio pensando per esempio solo allo bello ma non solo quello, trovare delle forme di un target culturale di integrazione che possa essere un richiamo. Purtroppo abbiamo perso il richiamo dei Longobardi. Bisognerebbe cercare di non perdere il richiamo del romanico. del romanico. Grazie al dottor Vittorio Vaccari per essere stato con noi, ovviamente si è vista la grande passione dietro al lavoro che state facendo. Grazie per averci seguito questa nuova puntata ovviamente dedicata al Parco dello Splendore. Noi torniamo con il prossimo appuntamento con altre bellissime storie da raccontarvi.